Benvenuti al meteo. Comanda l'andamento del tempo sempre l'anticiclone. Avremo ben poche novità rispetto ai giorni scorsi, ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 10 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibile sviluppo di nuvolosità irregolare sui rilievi prealpini a partire dal tardo pomeriggio. Ottima visibilità in quota, mentre in pianura saranno probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra meno 2 e 1 grado, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso c'è lo spesso nuvoloso in mattinata. A seguire invece ampie schiarite soleggiate dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, solo con qualche addensamento, ma del tutto innocuo e senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 12-13 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.